Io, rispondevo alle vostre lettere, ancora rispondo, io so se solo che è professionale, rispondo a tutte quante le lettere che inviate qua ce l'è, con grande trasgressione, grande disinibizione. Mi sono laureata tanti anni fa all'Università di Reggio Calabria, che comunque è una zona in nota per la sua disinibizione. Quindi qualsiasi cosa che voi volete scrivere, io sempre ci rispondo. Amandanzo con la prima lettera. Gabina da Sardegna, Gabina da Sardegna dubbeta, dubbeta. Gabi far ridere la dubbeta. Io mi sarei preoccupato, comunque, dubbeta. E' vero che c'è una ragazza vergine che può restare incinta? Io non ci sono riuscita. Sì, sto vergine, temporaneamente vergine, da circa 50 anni. Praticamente extravergine. Come ho fatto a diventare sassuolica. Ha studiato tanto, tanta teoria, aspettando la pratica. Sì, Madonna, mi fa grazie. Amandanzo con la nostra lettera. Francesca da Milano, Francesca da Milano, scrive, scrive, Francesca da Milano. Ho sentito dire che se dopo un rapporto ti lavi con la Coca Cola non rimani incinta. la Coca Cola. E metteci anche il ghiaccio al limano. Sì, ma prima sgasala, eh. Carmela da Napoli, 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 mi chiede. So con un ragazzo da tre settimane, lui non mi rivolge mai la parola. Quando usciamo ci baciamo e basta, senza parlare è normale. È educato quando si parla con la bocacchina. Quello se ti bacio in un bar non si parla con due baci, se ti bacio in un bar non si parla con due baci. Se ne vuoi uno che fai due cose, se ne mettete anche un vendrillo, forse. Oh, cade nimmu, cade nimmu, nives, nives da Bologna, nives, questo nome tipicamente di Bologna, nives da Bologna, s'interroga, nives da Bologna s'interroga. Caro dottoressa, com'è che si mette un profilattico? Modo nives da Bologna, vuoi facci di gridere a mia? Che non sai come si mette un profilattico? Capogna, capogna lo profilattico? Come ti ti sento male senza guardare? Ma se vuoi che io rispondo io stessa, vuoi che sto stessuolo che professionale? Sempre con grande transgressione, non mi scanto io, ah, non mi scanto io. Voi scrivete, io rispondo. Allora, tiri fuori il profilattico dalla borsetta con due dita, due dita, tiri fuori il profilattico dalla borsetta con due dita, e sempre con due dita, ce lo passi il fidanzato tu che ha fatto tutto. Pocca tenimmo Manuela, Manuela da Macerata, Manuela da Macerata che andaga, andaga, Manuela da Macerata. Facendo salsa con due preservativi se può rimanere incinta? No! Basta che dentro i preservativi c'è qualcuno! Un fINE, un fINE, M'ARICA DA ROMA D'OMANDA, M'ARICA DA ROMA D'OMANDA Cara dottore, dare il sesso orale, può sardinire quelle antiestetiche rughe intorno alle laddra, Dette anche codice a d'arre, se così tosse, io direi al mio ragazzo che hanno, tosta con il sesso orale, tosta! Scusa, Marek, ma io non vanno straniero! Cacciate un nome se capisci che non sei italiano con tutta sta capa! Fin piacere di scrivere all'estero italiano perfetto, come lo parlo io, a costitare il forno! Il tasso è, passa e chiudo!